Una boccata d'ossigeno per la vertenza FIMER che ancora oggi non registra una svolta decisiva. FIMER SPA, l'azienda di Terronova Bracciolini, aveva chiesto al Tribunale di Arezzo la possibilità di prorogare di 60 giorni la procedura concorsuale per permettere un piano di risanamento del debito e la definizione di accordi per risolvere la crisi in atto con l'entrata di nuovi investitori. La sezione fallimentare in Camera di Consiglio ha così accolto la richiesta della società. In questi giorni si sono aperte trattative ritenute importanti per l'innesto dei soggetti finanziatori interessati a portare avanti l'attività che avrebbe ampi margini di operatività. Preoccupazione ormai da mesi per centinaia di lavoratori tra diretti e indiretti dell'indotto. La certina di Monaco di Baviera, holding tedesca, è uno dei soggetti con i quali l'interlocuzione sarebbe già avanzata ma si parla anche di altre realtà. A partire dal 30 di aprile ci sono ulteriori due mesi dunque per riempire di contenuti il concordato con la presentazione di un vero piano definitivo volto a salvare la produzione.